Lavori sospesi in via l'Europa a terra nuova per un contenzioso aperto tra comune e ditta appaltatrice che ha alzato le richieste economiche dopo l'apertura del cantiere. Il primo cittadino Sergio Chienni spiega la situazione attuale ed ha anche le mosse da attuare nell'immediato. Sostanzialmente la ditta ha accumulato una serie di ritardi a fronte dei quali abbiamo fatto un sollecito perché potenziassero il cantiere in modo tale da recuperare il tempo che era stato perduto. In realtà invece la ditta che aveva vinto l'appalto ha sospeso sine die i lavori quindi aggravando ulteriormente il ritardo e in più successivamente ha addirittura abbandonato il cantiere portando via anche i mezzi e promuovendo un contenzioso che ha visto nel giudice sostanzialmente rigettare quello che è stato il ricorso e di conseguenza l'amministrazione comunale ritiene di avere tutti gli elementi per attivare un procedimento di risoluzione del contratto in modo tale da riassegnare i lavori e farli riprendere al più presto. Così ecco cosa verosimilmente accadrà con l'assegnazione dei lavori presto alla seconda ditta in graduatoria. Per gli approfondimenti che abbiamo fatto molto probabilmente sostanzialmente sarà interpellata la seconda ditta classificata nel bando di gara ci auguriamo ovviamente che i lavori possano riprendere al più presto ancora non ci sono dei tempi stimati ma noi spereremmo che entro la fine dell'anno possa effettivamente riprendere l'esecuzione dell'opera.